Bo, ditemi voi eh chi si deve cingurano no, cingurano no, cingurano 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 chiamate con un voto con un voto e neve cingurano bravo, molto chiamavano signori miei ma su solta le pesce per cingurano e tu vuoi nooo, mamma non vuoi metta la canna su caccio pugnato andami dotti e schiaffo e puccazzoni che ne vetti c'entano andami dotti uscire per aiutare ma vieni a caro lasciamo bene vieni a caro lasciamo bene lasciamo bene se no vieni bene così finisci no non vieni bene così a te caldo a te caldo comunque ma figlio eh troppo fatta la discussione tu eh guardate a pizzo e guardate le calabriere e guardate a me un pesce eh va lì sempre un pesce fragile oh che pesce oh che bel pesce se lo volete eccolo qua come frate il pesce mio è di prima qualità ma mamma come vuoi sapere tu vieni a caro pulicinare coppa a chi lo falcone vieni a caro vieni a caro sap faccio una signorina vieni a caro 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 la signorina io valente marinaio il bellerito e il bellerò per il cucevolo con il capitone eh faccio adesso ma tu c'è alice 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 e chi si prende solo alice c'è per la mia no alice 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 l'occhio tuo è... il caperrisor si segna la coppa mamma ti hai detto due da la coppa basso è così tu sai che dici? sei tu il... si è tuد Patrono da casa io Lembriè nella manara no e che altri ono li fate poco andiamo vado sopra sempre a lì, c'è lì, c'è l'occhio e ma sopra è da quella parte a me mi piace stare le fasce comunque non ci può fare il pesce è buono no, no, il pesce è buono i denti sono quelli che sono lo faccio, lo faccio ma tu sei limitato io devo spaziarlo comunque io non mi avvenisco mio dio è stato fatto con la mia è stato nato la mia è stato nato la mia è riletta chissi, per solo gli angoli oh che pesce oh che bel pesce se non lo volete, eccolo qua il pesce mio è di prima qualità ha pillato la nasa come buzzo policinei poco prima arriva sotto la curva è nato un palcone ma stiamo in auto e quando in auto sulle case è stato prosto allora fai la botta più forte secondo piano vai avanti io là sotto io io Federico Federone valente mariano vai avanti io Alice tu vai avanti allora io Federico Federone valente mariano Alice ma da voi ma se posso sapere che viene l'alice hai capito è una licenza poetica ah ho capito vai avanti Alice 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 con la voce la prima uh come te sei Alice uh come te sei l'occhi tuoi son che pernici si sente in coppa mamma da che dici che dici cacca cacciatore una botta poi l'auto mi piace vai avanti sentito sentito sei rumore raga vado sopra stavote 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 vado decisi polizine eh veramente vado sopra eh vado stavote stavote vado mamma da guarda 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 quanto è bella mamma da guarda 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 ma come pesce la figlia spazella la mamma polizine levate la ciacchetta che c'è non di ti comunque 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 dico signore mia attenzione ma questo pesce vuole comunque ma vuole comunque ma vuole pesce eh c'è rupesce mio non ci sto spazella se piccere mamma rogar un pro lo spruffo e se ne va e che se ne esagira più oh oh allora ringraziamo i componenti innanzitutto del comitato che hanno organizzato i mesi facciamo un grande applauso comitato festeggiamenti di quest'anno 2009 poi ringraziamo anche alcuni amici di Casale che hanno incrementato i nostri mesi un applauso pure a loro un applauso all'Arsenova Club che ha voluto organizzare anche questa questa serata questo pomeriggio dopo i mesi quindi adesso il comitato offre però a pagamento perché se l'ho offerta era gratis ma pare che a pagamento perché vedo la cassa ci sono le pizze e altre cose buone quindi un applauso anche al complesso che ci animerà mentre mangiamo queste cose e poi in ultimo un applauso vorrei c'è una tour sempre questo mi piace buon carnevale a tutti mangia frittella oh ma che è Sì, sono in gioiavole, sono in gioiavole, sono in gioiavole. Sì, sono in gioiavole, sono in gioiavole, sono in gioiavole. Sì, sono in gioiavole, sono in gioiavole. Grazie.